Pronti, escono i led, escono anche i cavalli. Partiti. In vantaggio Caringa, davanti a Embras Real, Likita, Black Hawk, a Premois, Tony Motor e Galia. Dopo 300 metri di corsa, in vantaggio Caringa, davanti a Black Hawk, con all'interno Embras Real, seguono a Premois, Likita, Tony Motors e Galia. All'inizio della curva, sempre in vantaggio Caringa, davanti a Black Hawk, con all'interno Embras Real, seguono a Premois, Likita, Galia e Tony Motors. Poco prima dell'ingresso, in dirittura, conduce Caringa, davanti a Black Hawk, Embras Real e a Premois. I cavalli entrano in dirittura. Con Caringa, in vantaggio, lungo la corda, davanti a Embras Real, Black Hawk, a Premois, Likita, Galia e Tony Motors. E in vantaggio, Caringa, davanti a Embras Real, Black Hawk, a Premois, Galia, a Centropista, Likita. E in vantaggio, è un leggero vantaggio, Embras Real, davanti a Caringa, Premois, Galia, Likita e Black Hawk. Conducesi a vantaggio, Embras Real, davanti a Premois, Likita e Caringa. E facilissimo, Embras Real, davanti a Premois, attaccato all'esterno da Likita. Più facile del previsto, la vittoria di Embras Real, senza soffrire, Antonio Fresu in sella, il numero 4. E sigla la seconda corsa all'ippodromo delle Capanelle.